Dall'inizio del 2016 almeno 58 donne sono state uccise dal partner o dall'ex fidanzato. Oltre al femminicidio esistono ragazze, madri e figlie che nel silenzio subiscono sopprusi. Quasi 9.000 donne sono state vittime di violenza e 1.261 di storki. Il 90% delle donne non denuncia tali atti di sopraffazione. Basta con la violenza sulle donne. Anche io aderisco alla campagna della Polizia di Stato, questo non è amore. Non dovete avere paura di denunciare i comportamenti violenti subiti. Perché se un uomo maltratta una donna, questo non è amore.